Siamo stanchi Per la rabbia, l'indignazione, la sofferenza degli ambulanti un comparto trascurato di oltre 28.000 operatori che da oltre un anno i fieristi, da mesi gli ambulanti dei mercati subiscono le chiusure e la concorrenza dei centri commerciali Li vogliamo lavorare Ci stanno prendendo in giro, ci prendono in giro con il ristoro, i 1000 euro, i 2000 euro i soldi li abbiamo finiti già da un pezzo di quelli che ci hanno dato di ristoro 14 mesi senza lavorare 14 mesi senza lavorare, ragazzi, diteci voi come possiamo fare noi Bollette, acqua, luce, casse Ci sono persone che non possono neanche mangiare, ragazzi Non è giusto tutto questo, è un anno che non ci stiamo battagliando per senza niente Cioè qua non ci sono, io sono invisibili, mi sono vestito di nero Ma oggi mi avete tolto la migliore cosa che ho tenuto la vita mia La dignità, io bene per la famiglia, perché senza faticare non posso campare Noi stamattina siamo qua perché purtroppo ci hanno obbligato a venire stamattina qua Perché tutte le proteste pacifiche che abbiamo fatto siamo sempre stati inascoltati Io sono un ambulante delle fiere e delle feste E sono 15 mesi che non lavoriamo e ancora adesso non si sa quando ci sarà la riapertura del nostro comparto Non si sa quando ci sarà la riapertura del nostro comparto